Incidente mortale domenica sera sulla strada statale 626 alle porte di Caltanissetta lungo il raccordo che collega la 19 Palermo-Catania. A perdere la vita un camionista di 47 anni originario di Vittoria. L'uomo a bordo di un auto articolato carico di prodotti ortofrutticoli proveniente da Vittoria si stava dirigendo verso il capoluogo Nisseno quando verso le ore 21 e 30 nell'imboccare una rotatoria ha probabilmente perso il controllo del mezzo sfondando dapprima per una decina di metri il guardrail per poi precipitare nel vuoto per una ventina di metri. Ad estrarre il corpo dell'uomo ormai senza vita dalla cabina distrutta del mezzo sono stati i vigili del fuoco di Caltanissetta e i soccorritori del 118. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri e i poliziotti. La salma dell'uomo è stata trasferita alla camera mortuaria dell'ospedale Santeria. Le operazioni di recupero del mezzo sono proseguite per tutta la notte. Sull'incidente la procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta. Rifiuto di accertamento dello stato di ebrezza alla guida, ricettazione e violazione della sorveglianza speciale, questi reati contestati al 36enne pregiudicato mazzarinese Carmelo Scaffini, tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Riesi in attuazione a un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta per il cumulo dei reati commessi, dovendo l'uomo scontare la pena di 10 mesi e 15 giorni e 6 mesi ai domiciliari. A Caltanissetta, invece, i ladri hanno messo a segno un colpo nel nuovo blocco operatorio dell'ospedale Santeria, ancora non funzionante e ubicato nel piano sotterraneo della struttura. A dare l'allarme sono stati gli stessi operai della ditta che stanno eseguendo i lavori, che hanno immediatamente avvisato i responsabili dell'ufficio tecnico e i vertici dell'ASP. I ladri hanno portato via cavi e materiale elettrico. Non sono stati rinvenuti segni di scasso, poiché la porta probabilmente è stata trovata aperta dai ladri. A Gela, i poliziotti del locale commissariato, nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno denunciato tre gelesi. Un 32enne per il reato di furto in abitazione, un 33enne per il reato di porto abusivo di oggetto atta ad offendere, poiché trovato in possesso di un bastone, un 32enne per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, Un 22enne è stato invece segnalato per detenzione di marijuana per uso personale.